Il meglio deve ancora venire Sono Pino Catizzone, sono il sindaco di Nichelino. Volevo chiedere al candidato Piero Fassino, e mi auguro anzi sicuramente al sindaco Fassino, tre cose, tre questioni rapide. Torino è da sempre stata la capitale del lavoro. Negli ultimi anni è diventata anche la capitale dell'innovazione tecnologica. Che spazio ha nella gestione della città l'innovazione tecnologica e nella fattispecie l'estensione a sistema della banda larga, tenendo conto che l'amministrazione può essere un elemento di forte innovazione. L'amministrazione stessa, questo è il primo tema. Quindi banda larga a Torino. Secondo tema è la questione della semplificazione burocratica. Come facciamo in modo da creare lavoro in questa città? Sicuramente riducendo i tempi della burocrazia, sia il peso che i tempi della burocrazia su famiglie e imprese. Quindi volevo capire come il sindaco Fassino si pone in questi termini. Terza e ultima questione, la questione dell'area metropolitana. Quali sono le politiche di integrazione per creare un sistema territoriale ancora più forte di quello che abbiamo? E io devo ancora venire Grazie a tutti!